Ciao, come ti chiami? Alessio. Ciao Alessio, da dove vieni? Dalla Spezia. Ah dai, non è lontano, è abbastanza vicino. Senti Alessio, regalo o scelta tua? Regalo. E' colpa di qualcuno. E' colpa di lei? Sempre è colpa nostra alla fine. Bene dai, ma sei pronto però? Sì, bravo bravo dai, andiamo a divertirci allora. Non vedo l'ora. Ti hanno spiegato tutto, quindi sai già cosa devi fare, super pronto e niente, allora va bene. Poi se non va bene ci arriviamo con lei. Se non va bene sarà stata un bel lancio. Va bene dai, che cazzo. No va bene, va bene dai, perché non dovrebbe? Senti Alessio, ti lascio con Gabriele che finisce di imbragarti bene e noi ci vediamo tra poco in aereo. bellezza. Proviamo sempre bene. Grazie. Ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.